Un inedito Raul Bova nella parte di Marco e Chiara Francini, attrice e rivelazione della commedia italiana nella parte di Paola. Il testo è di Luca Miniero alla sua prima messa in scena. Bova tra l'altro ritorna al teatro dopo un po' di anni. Io non mi sento di averlo mai abbandonato il teatro. Per me il teatro c'è, c'è stato e ci sarà ancora nel momento in cui troverò delle cose, dei testi che mi permettono di emozionarmi e ovviamente è una cosa che sento, che sono in grado di fare perché adesso passare poi subito a fare Shakespeare in modo classico non mi sentirei preparato, dovrei fare qualche anno di preparazione prima. Due è una commedia leggera, godibile. Si parla di convivenza, sapere oggi come sarà Marco fra vent'anni. Questa è la pretesa di Paola. Paola è assolutamente una donna attuale, è una donna tradizionale per certi versi perché vuole innamorarsi, vuole essere felice. È anche una donna però profondamente moderna, è una donna che lavora, è una donna libera ed è una donna che non ha paura di dimostrare quelle che sono le sue paure, quelle che sono le sue fragilità. Quindi è assolutamente una donna attuale, un po' come lo sono io e come lo sono le donne che guardano lo spettacolo e che di fatti si rivedono completamente in questo personaggio. Entrambi i due giovani evocheranno facce e personaggi del loro futuro e del loro passato, genitori, amanti, figli, amici, che come in tutte le coppie turberanno la loro serenità e nel frattempo si cerca di montare un letto. Uno spaccato di vita quotidiano rappresentata appunto in una stanza, in un'ipotesi ipotetica stanza dove il personaggio maschile costruisce un letto. Questo letto che comunque spesse volte deve essere costruito con le istruzioni, spesse volte noi uomini lo costruiamo senza le istruzioni e spesse volte ci rimangono pezzi in abbondanza. Quindi siamo costretti un po' a smontare il letto, a rimontarlo e diciamo che in qualche modo assomiglia a quelli che sono i rapporti di coppia. Quindi diciamo che è molto simbolico questo spettacolo. È divertente, ci sono dei caratteri ovviamente un po' caratterizzati in maniera forte. Questo ovviamente per facilitare un po' una parte più di commedia. Non si entra mai nello specifico, non si vuole raccontare, non si vogliono dare verità. Però ecco la cosa che poi esce fuori è la possibilità ognuno di noi di non seguire le regole scritte, le regole della società, le regole in amore. In amore ci sono le regole del buonsenso, dell'ascoltare l'altro, dell'ascoltare il proprio cuore. E mentre a Catania al Teatro Metropolitan gli spettatori dimostrano di essere maleducati non spegnendo il cellulare durante lo spettacolo, costringendo lo stesso Bova ad interromperlo, alla Mezzia, con un sold-out continuo in tutte le rappresentazioni di Ama Calabria, gli spettatori dimostrano di meritare un teatro di qualità. Sì, però il premio non può essere incertezza, perché ancora non è possibile organizzare in anticipo una nuova stagione teatrale, perché non è certo se il Teatro Comunale Grandinetti sarà aperto anche a settembre. Se così non fosse, sarà una sconfitta pesante per la terna commissariale che gestisce il Comune di La Mezzia.